Mi chiamo Laura Fontane, abito a Bologna, sono arrivata in questo studio con la diagnosi di infarto della retina ischemia, per la quale non avevo avuto alcuna speranza di miglioramento o di guarigione. Sono stata operata dal dottor Ghinelli all'occhio sinistro e subito dopo ho notato un miglioramento, come se non vi fosse più un buio totale ma come se l'occhio fosse come appannato. Mi sono poi sottoposta a una serie di sedute per stimolare l'occhio e la vista. Da sola sto continuando a stimolare la vista dell'occhio usufruendo di immagini al computer. Sono molto contenta del percorso svolto e ringrazio infinitamente il dottor Ghinelli anche se penso di poter proseguire per ottenere ulteriori miglioramenti.